buongiorno da v tv news oggi 21 marzo san serapione e della giornata mondiale della poesia istituita dall unesco nel 1999 durante la sua trentesima conferenza generale a parigi la giornata è stata creata per dare nuovo riconoscimento e slancio ai movimenti poetici nazionali regionali e internazionali questa ricorrenza non solo onore poeti ma l'obiettivo di far rivivere le tradizioni orali del recital di poesie nonché di promuovere la lettura la scrittura e l'insegnamento della poesia oggi è anche la giornata nazionale e internazionale del tiramisù tra i nati in questo giorno annoveriamo luigi tenko 1938 alda merini 1931 e alena sredova 1978 tra le scomparsi ricordiamo invece pietro mennea 2013 e anche per l'indici